No, 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 non potete prenderlo! Non capite! Hai visto di essere in silenzio? No, non lo prendete! Tutto quello che vi hai o mangerai sarà usato contro di te in tribunale! Ti devi aspettare che la capola fanno buttare la massa. Vale? Tesoro, il fornello non è neanche acceso. Deve essere impittente e essere comitato. Sai che è successo all'unico di papà con il padre? Sì. Vuoi dirmelo? È morto? Davvero? E sai come è morto? L'hai inciso a tu, papà? Io? Aha. Sai perché l'ho fatto? Perché faceva amare la mamma e non si fa amare le mamme. Beh, è verissimo. Ma lo sai che so, non devi proteggere tutti. Puoi sempre rimanere da me. Ma se vedessi qualcosa quando io non ci so, beh, per esempio, non senti che dovessi mai fare del male alla mamma? Eh, se ne pentirebbe molto. Sì, è così. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, è il mio bambino. Oh, ciao. Non sapete quanto mi sono grati? Non avete idea di cosa voglio dire per lui? A dire il vero sì, ho un figlio. Come avete trovato con il vostro? Tesoro, era solo un uomo, lascia perdere. So quello che ho visto, Paola. Oh, di essere. L'importante è questo. Ciao, Rocky. Dove è il bambino? Beh, non funziona così. Facciamo.